sindaco possiamo sapere che dobbiamo fare sindaco dobbiamo aspettare ancora dobbiamo aspettare sindaco sindaco stiamo lavorando sindaco non ho scurato nessuno sindaco dite cosa stiamo facendo stiamo lavorando dite cosa stiamo facendo stiamo aspettando da due ore il consiglio è bloccato stai gridando da quattro ore no 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 rispondi rispondi mi hai fatto venire in mano di testa sindaco dobbiamo aspettare ancora guardate guardate stiamo lavorando ma non ti vergogno guardate oscura del sindaco siamo in consiglio io voglio sapere cosa dobbiamo fare possiamo sapere possiamo sapere possiamo sapere rispondi questo è il sindaco che non risponde questo è il sindaco che non risponde guardatelo rispondi meluzzi rispondi cosa stiamo facendo non risponde non c'è il consiglio comunale non c'è il consiglio è fermo io lo voglio sapere democraticamente sindaco mi rispondi per cortesia stiamo lavorando e non si è abituato non risponde non risponde basta che non grida no 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 benissimo sindaco sindaco perché non risponde il sindaco non risponde non risponde stiamo lavorando stiamo lavorando stiamo lavorando stiamo lavorando